Siamo arrivati al giorno clou, quindi dopo tante, parliamo prima, qualche mese ci siamo sentiti a dicembre, ora siamo a marzo, insomma, cercavamo la cannetta giusta, ci siamo sentiti tanto, noi siete già venuti a trovarci, poi abbiamo sentito Cristian, insomma, è la cannetta arrivata e dopo tanti dubbi ci siamo, ci siamo, hai ancora dubbi, sei contenta, raccontaci qualcosa. No, sono felicissima, un po' timorosa perché per noi è il primo cane, però me ne sono un po' innamorata per proprio la tipologia di cane che è, soprattutto avevamo tanti dubbi, ma qua ci sono stati chiariti tutti, siete stati disponibilissimi, spendi una parola per quello che hai di fronte, siete stati disponibilissimi, Dario in prima e Cristian soprattutto che con me ha avuto un'enorme pazienza perché sì, io effettivamente essendo il primo cane avevo un sacco di dubbi su, ma non tanto il cane, ma se poi fossimo stati noi all'altezza del cane. I dubbi vanno fugati sempre, ma quello è importante, noi come sai preferiamo non dare cani, ma veramente, piuttosto che avere problemi dopo perché si riflette sull'esperienza negativa vostra, poi avete anche una splendida bambina, quindi è anche del cane, è anche del cane, è che lo desiderava tantissimo. E questo è molto importante, però ecco tutto il pacchetto attorno deve essere ovviamente completo. Lei poi veramente, la scelta, è vero che abbiamo scelto insieme, ma Cristian ci ha dato delle buone indicazioni, anche Virginia, ringraziamo lei, mi sembra perfetta, nel senso che sembra un cane già serio, tranquillissima, tranquilla, quindi sono ben contento insomma dopo aver ascoltato, sarà veramente il cane giusto per voi, io ricordo benissimo che tu avevi dubbi con i tuoi genitori, che sono venuti a trovarci, avete avuto tanti ostacoli, però ecco siamo contenti, allora chiediamo alla piccola di casa che giornata è oggi per te? Credo sia una delle più belle della mia vita. Mamma mia! Dai, fai lì una coerrezza, poi darai un gran bacino a mamma e papà o dalla cucciola e diciamo anche, sentiamo, ecco si chiama Frida, lei si chiama Roverella, la zia dice che è bello il nome Roverella, è bella Roverella un po' lungo per me da chiamare, però sì lo hai scelto Frida. Sentiamo la parte maschile della famiglia, tu che ne pensi invece? Sono contento molto, adesso diventerò il quarto della famiglia in posizione, però va bene dai, siamo convinti. Sei l'unico da avere testosterone in famiglia. Esatto, ma ne ho tre donne adesso, quindi... No, lui me l'ha sempre detto che è del partito mariti felici. Io sono assolutamente del partito, eh no, perché se no non... i cani, cioè la famiglia è quello, il cane è un membro della famiglia e fonda... Ora, a parte scherzi, è un membro della famiglia, dico sempre, tutti devono essere soddisfatti. Se uno della famiglia non accetta il cane, cioè il cane non ti rende la famiglia migliore, ma è un tassello negativo per tutto, quindi quello era importante. Noi ci siamo arrivati, ci abbiamo messo un po' di più, ma il tempo non è mai un problema. Io e lui siamo convinti che facciamo un po' di più anche da collante. Ma poi ci siamo conosciuti anche noi, quindi è stato bello, noi siamo a disposizione, quindi nel senso che... Boh, ci siamo conosciuti, ancora me lo ricordo, mi chiamato che ero in macchina, come sempre attivamente, però dai, se l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, quindi... Niente, allora un saluto a tutti voi, un bacino a Frida, buon divertimento Frida con la nuova famiglia. Per quanto non siamo tanto a lontano, un'ora e mezza qua noi qui. Perfetto, perfetto, allora... Se Cristian poi mi fa i corsi verrò a trovarlo. Sì, 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 va bene, va bene. Un saluto a tutti, una buona giornata e alla prossima. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie.